Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo la versione player della terza maglia del Tottenham per la stagione in corso. Non l'avevo mai vista? Mi direte cosa ne pensate? Non l'avevo mai. La maglia non è niente male, molto particolare la bordatura delle maniche, bello il tessuto, il colore mi lascia un po' perplesso. A voi piace? Il costo lo vedete qui sopra, ecco questo è veramente molto accattivante. Questo è un nuovo sito che sto provando da poco, sono rimasto sorpreso della qualità e del posizionamento dei nomi e numeri. Ogni tanto vengono fatti degli errori, questi sono perfetti. Se volete qualche riferimento trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Ora vi lascio la parte finale, prima però iscrivetevi al canale. Ve lo ricordo sempre, a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi tutti i giorni maglie come questa. Ciao, alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.